Tra poco parabui! Ciao! Scegli! Ciao! Ciao, Bob. Ci risiamo, hai visto? Di solito non lavoro sui carburatori. Comunque, anche senza aprirlo così a occhio posso dirle che è un motore complicato. Sì, sì, lo so. Il lavoro posso farlo anche da sola, ma mi serve il pezzo. Guardi, lo faccio vedere. Vede? È questo pezzo qui. È questa valvola. Si è consumata. Me ne serve una nuova. Può ordinarla? Sì. Sì, sì, posso ordinarla. E quanto tempo ci vorrà per riceverla? Una settimana, probabilmente. Una settimana. Arnie! Oh! Io non cado! Oh! Ehi! È caduta la scarpa! È caduta la scarpa, Gilbert! Che grande festa ci sarà per Arnie che tra poco ha 18 anni. Che grande festa ci sarà per Arnie. Scendi, dai, muoviti. Vieni giù. La bombola col fuoco! Boom, boom! La bombola col fuoco! Boom, boom! La bombola col fuoco! Boom, boom! La bombola col fuoco, boom, 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 boom. La bombola col fuoco, boom. Bravo! Vieni giù, bravo! Vieni! Dai, continua così! Dai, che ci sei! Ecco, ci sei. Grazie mille, Gerry. Mi dispiace. Bravo, bravo. Bravo, Annie. Adesso lo porto a casa. Prometto che non si ripeterà più. Senti, ce lo dici tutte le sante volte. Dopo un paio di giorni lui ci risale. No, sul serio. È l'ultima volta, promesso. Vero? È l'ultima volta. È l'ultima volta. Sì. Adesso andiamo. Io voglio andare in... Andiamo.